Sai già come la penso in proposito, te l'ha detto anche il giudice Watzeit, non voglio più sentir parlare di petrolio, così è e così sarà. Bevo solo con gli amici. Ti sembra questo il modo di rispondere al tuo produttore? Mi hai già costretto a far lavorare tua moglie in questo film, ma portarla qui con Marina in quelle condizioni? Sì, non pensa al film. È quello che sto facendo, Marty? Non voglio contrariare la mia protagonista. No, andiamo, sono certo che Marina non avrà più crisi, vedrai. Lo sai che il mio interesse è sempre anche il tuo. Il tuo interesse è anche il mio. Ehi, Demil. Sono Bill Arrabi. Lieta di conoscerla. Ho dello champagne, caviale, salmone affumicato, pâté de foie gras e una mezza dozzina di zingori ungheresi assortiti. Un menù squisito. Volevo invitarla a un picnic. Alle tre del mattino. È l'ora migliore, niente formica. Ma hanno un capo che è il nostro nemico. Un tale di nome Ossiola. Pare che l'Inci ti ha la guerra per mantenere il potere. Ma che brillante ufficiale mi sono mostrato. Da quando sono arrivato qui non ti ho parlato che di politica. Non è davvero molto romantico. Ti sei fatta proprio donna, sai? Si cresce in fretta a vivere solo. E ti ha cambiato forse? Vito tre sì o no? Sì, ma gli ordini li do io. E devo andare solo. Se ci pescano tutti e tre insieme, dopo che cosa succede? Willy mi porta a terra e poi torna a bordo. Tu sta di guardia e tieni gli occhi aperti. Se tutto va bene farò un segnale dalla spiaggia. E supponiamo che tu non possa farlo. Che succede allora? Allora prendi tu il comando. Sai, Kelly, ho pensato molto a noi due. A come... a come stavamo bene insieme. Ai discorsi che facevamo. Quando eravamo sposati. Tutti quei sogni. I progetti. Te lo ricordi? E come no? E adesso? E adesso? Sei riuscito a realizzarli, lo vedo. Oh, all'inferno. Ah, e lei? Non si sa mai. Nascondersi negli armadi non la farà certo guarire. C'è una sola cosa che può guarirla. Sì? Si veste. Vestirmi? Lei uscirà questa sera. Uscire? Ma mi troveranno. Ma che sciocchezze. Non può passare tutta la sua vita nel mio letto. Le chiedo solo pochi giorni. No, niente debolezze. Pochi giorni diventeranno settimane, poi mesi e non vorrà più lasciare questa stanza. Non sarò mai malato a questo punto.